Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo alcuni farisei si avvicinarono e per metterlo alla prova domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro, che cosa vi ha ordinato Mosè? Dissero, Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla. Gesù disse loro, per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma dall'inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due ma una carne sola. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento e disse loro, chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei e se lei ripudiato il marito ne sposa un altro commette adulterio. Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù al vedere questo si indignò e disse loro, lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino non entrerà in esso. E prendendoli tra le braccia, ti benediceva, imponendo le mani su di loro. Parola del Signore. Seguiamo il Vangelo di Marco che è il nostro maestro di quest'anno e in questa pagina viene posta a Gesù una questione che al tempo, allora ma ancora oggi, è una questione molto forte, molto dibattuta. La questione del divorzio. Al tempo di Gesù si poteva divorziare, o meglio, l'uomo poteva ripudiare la moglie, non viceversa, la società ipermaschilistica. e quindi c'erano tante idee diverse fra i maestri, fra i rabbini, circa i motivi per i quali un marito poteva mandare via la moglie. Quando lo vanno a chiedere Gesù, Gesù che cosa fa? Come sempre si eleva dal singolo caso, dalla singola diatriba di scuola, ma si alza e ritorna al disegno di Dio iniziale, al sogno di Dio sulla sua creazione. Ecco perché cita il libro della Genesi. L'uomo lascerà suo padre e sua madre e i due diventeranno una carne sola. Però a questa citazione del libro della Genesi Gesù aggiunge il suo commento. L'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Questo lo dice solo Gesù, non lo dice il libro della Genesi. E così anche dopo ai suoi discepoli, che probabilmente stupiti lo interrogano, Gesù ribadisce che è adulterio, cioè è rottura del disegno di Dio. Sappiamo oggi quanto è difficile per le coppie restare unite, restare insieme. Sappiamo quante sono le famiglie separate. Ecco non condanniamo evidentemente nessuno e neanche Dio condanna nessuno. Però propone a tutti indistintamente il suo sogno, il suo disegno, il suo progetto iniziale. Quello cioè di vivere un amore che sia come il suo amore. Un amore fedele, un amore unico, un amore eterno. Ecco naturalmente come tutte le proposte del Vangelo sono dei cammini, non sono delle mete che o le raggiungi o non le raggiungi. Sono delle strade e su queste strade dobbiamo camminare. Le coppie devono prendersi cura della loro relazione. Nessuna relazione è scontata, nessuna relazione automatica né prima né dopo il matrimonio. Ecco la cosa fondamentale è non perdere d'occhio questa relazione. La relazione della coppia, la relazione con l'altro che prima di essere babbo e mamma la coppia è marito e moglie e la relazione con Dio, la relazione con il Signore che è la fonte dell'amore. Questa relazione è chiamata, l'ultima parte del Vangelo, anche ad aprirsi non solo alla vita, per cui c'è un bambino, accogliere i bambini, ma aprirsi alla vita di tutti. Ogni coppia è chiamata a far fiorire la vita, non solo dei suoi figli evidentemente, ma a far fiorire la vita delle persone che sono legate, sono collegate, sono entrate nella vita di questa coppia. Ecco far fiorire la vita è la vocazione di tutti i cristiani, ma in particolare della famiglia, la famiglia secondo il sogno di Dio e questo sogno noi ci auguriamo che in ogni famiglia, anche in quelle ferite, possa sempre e di nuovo rinascere. Grazie per la visione!